Musica Leggere e scrivere sono fondamentali perché ci danno il senso della realtà. Quando uno legge o scrive esercita il pensiero, la logica, la razionalità ed è fondamentale nella società della disinformazione dove proprio attraverso le notizie noi veniamo costantemente allontanati dalla realtà. Appunto per questo è il Lions Club di Soveria Mannelli. Insieme al Liceo Scientifico di Decollatura, insieme al Comune di Soveria Mannelli, a quello di Decollatura, all'Associazione Fiore di Lino, alla Casa Elettrice Rubettino, alla Fondazione Italia Domani abbiamo organizzato questi incontri. Nelle scuole proprio partendo dalla lettura. Mimmo Gangemi è un grande scrittore italiano nato in Calabria che ha pubblicato per le più importanti case editrici nazionali, dalla Rubettino, alla Einaudi, alla Garzanti, alla Bonpiani. I suoi libri sono stati tratti anche degli sceneggiati andati in onda in prima serata su Rai 1 e questa mattina è venuto a incontrare i ragazzi delle scuole superiori e fare con loro degli esercizi di scrittura creativa. L'idea è quella che è nata sul sito del Corriere della Sera, 20 line, 20 righe, che sono scritte da un grande scrittore e poi vengono proseguite da chiunque. E quindi questo esercizio stamattina si sta realizzando coinvolgendo tanti giovani che in questo modo provano a misurarsi con la creatività, con la bellezza, con l'ansia della scrittura. Ed è quindi un esperimento educativo importante, significativo, che ci fa comprendere la realtà dove viviamo. Grazie a tutti.